Eccoci ciao a tutti, visto che mi beccate anche sempre molto sulle, chiamiamole scenografie, sui, insomma, sugli oggetti o sulle scritte o su tutto quello che c'è alle mie spalle, alla mia vita. Vedete qui? Vedete quell'oggettino? Un bel ricordo, è marzo 2003, marzo-aprile 2003, quarti di finale ad Amsterdam contro l'Ajax. Qui dove mi trovo ce ne sono due, uno preso nel 2003, pochi mesi prima della vittoria in Champions League in finale contro la Juventus a Manchester e un altro da un'altra parte, chissà se lo vedremo mai, preso invece a Belgrado all'inizio della Champions 2006-2007 che poi ci portò la vittoria ad Atene. Sono insomma due souvenir, le uniche due volte in cui ho preso souvenir in città estere, tutte e due le volte poi il Milan ha vinto la Coppa dei Campioni, mi ero dimenticato di farlo prima della finale di Istanbul del 2005, ma senza altro starete già facendo qualche battuta, qualche battuta che ci sta sempre su questo. Oggi le pagine di mercato contemplano una novità, la riporta il Corriere dello Sport, faccio un pezzettino di rassegna stampa anche aggiornata ormai inoltrata, parla di John Lukumi, giocatore colombiano del Genk, squadra belga, che è in scadenza nel 2023, non ci sarebbe una richiesta particolarmente elevata da parte del Genk, non lo conosco minimamente, ho visto solo che sono sei lettere come tomori e quindi mi è piaciuto per quello, vi confesso proprio candidamente la mia totale ignoranza sul ragazzo, ma la prima sensazione che ne è derivata, è così che voi potrete evidentemente chiamare qualcuno per ridurre a più miti consigli il pazzo, ma del resto se non l'avete fatto fino ad oggi magari riuscite a non farlo nemmeno questa volta, vedremo, insomma vedremo, è chiaro che c'è lavoro, c'è attenzione e naturalmente c'è anche tanta tanta preoccupazione, vedete tutte le notizie che ci sono nel mondo, ogni minuto spunta un positivo, quindi insomma il calcio viene messo veramente a dura prova dal Covid e chissà come sarà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, non facciamo troppi programmi, non voglio fare l'apocalittico ma non facciamo troppi programmi ragazzi, oggi nel calcio messo a durissima prova, non soltanto quello italiano, quello europeo è messo a durissima prova, di questa mattina la notizia anche della positività di Osimena, insomma bisogna vivere veramente la giornata e prendere quel che viene, però vi davo conto di questa novità di scenario che ho letto sul tuo sport, poi la stampa oggi fa anche altri nomi come Nathaniel Phillips del Liverpool e altri giocatori della premia big inglese, vedremo, vedremo quello che sarà e vedremo dove porterà il lavoro del Milan nel terzo mercato invernale che facciamo sul difensore, nel gennaio 2020 arrivo a Kier, nel gennaio 2021 arrivo a Tomori e quindi insomma i precedenti ci dicono bene, vedremo il resto, la copertina però è su Ibra perché c'è il Gultbollen, il pallone d'oro svedese che è andato a Forsberg e non a Zlatan ed è diventato una notizia, sapete insomma quando si iniziano a conoscere i primi erudimenti della cronaca giornalistica non è una notizia il cane che morde un uomo, è una notizia l'uomo che morde il cane. Ora nella preghiera e nella speranza che le associazioni animaliste non mi vedano e non mi prendano troppo sul serio è naturalmente in senso figurato, non in senso metaforico, non in senso reale con il massimo rispetto per tutti i cani che sono cani, cagnolini, cagnoloni che sono fonte di gioia per tutte le loro famiglie e tutte le persone che convivono con loro. Però era figurato, sapete come, meglio precisare. E allora se Zlatan Ibrahimovic vince il pallone d'oro svedese è normale, se il pallone d'oro svedese lo vince qualcun altro allora diventa una notizia. Io ricordo che queste premiazioni, di aver fatto tante notizie sulle premiazioni di Zlatan a fine anno con il gutbollen svedese, è una consuetudine poi che ha preso piede in molti altri paesi, in Svezia è una tradizione da molti anni, però veniva affastellata come una breve come le altre, insomma Ibrahimovic miglior giocatore svedese. E vabbè, quindi invece se non è Ibrahimovic a vincere il gutbollen svedese allora, allora, allora c'è la notizia, allora c'è il tema, è normalissimo dal punto di vista editoriale, dal punto di vista giornalistico, visto oggi molti spunti su questo. La Gazzetta scriveva che potrebbe anche essere uno stimolo in più, io titolo infatti Adrenalina, che è anche un po' il titolo dell'ultimo libro di Ibra, è chiaro che è anche da queste situazioni che trae stimolo, che trae voglia di allenarsi, di sacrificarsi, di sopportare i dolori, di andare avanti nella sua carriera di calciatore Zlatan. Quindi immagino anch'io che da questo momento nella sua testa ci sarà di vincerlo ancora, perché anche per lui lo vinci praticamente tutti gli anni o quasi diventa quasi un'abitudine, ma quando non lo vinci scopri che era una bella abitudine che ti manca già e quindi vuoi ritentare la scalata, ci sta tutto. È chiaro che il calcio svedese è un bel movimento calcistico, ci sono sempre stati storicamente grandi talenti, ne sappiamo qualcosa di importante anche noi molto evidentemente nella nostra storia. L'importante però è che Zlatan continui a lavorare al meglio possibile come sta facendo. Lui quest'anno ha fatto tutte le cose che doveva fare. L'estate, come spesso mi è capitato di dire, è stata un'estate ordinata, programmata. A un certo punto è rimasto l'unico attaccante schierabile per il Milan e quindi nonostante la sua età ha dato una dimostrazione di affidabilità. Lui ha preferito fermarsi a settembre prima di andare ad Anfield con il Liverpool perché quell'infiammazione era meglio gestirla per evitare i guai peggiori. E poi è tornato Zlatan, è tornato a metà ottobre con il Verona e c'è sempre stato. Poi per carità può capitare il sovraccarico, l'eccesso di fatica, non giochi a Empoli l'ultima dell'anno dopo che ne hai già giocate tante. È normale gestirlo, però poi da metà ottobre in poi c'è sempre stato ed è un buon periodo di riferimento. Quindi bisogna far leva su questo, sul fatto che lui continui, pur con i suoi stimoli, pur con i suoi obiettivi, pur con i suoi traguardi, pur con la sua adrenalina, che continui di questo passo. Ordine, prudenza, calma, gestione. È così che potremmo continuare ad avere Zlatan a disposizione in maniera importante anche per buona parte del 2022. Perché l'estate del 2020 era stata tutta diversa da quella del 2021. Più breve, con Zlatan che aveva lasciato Milanello a fine stagione senza contratto, poi tutto molto velocemente, il rinnovo a fine agosto, subito gli impegni di Europa Liga a metà settembre a Dublino, eccetera, eccetera, eccetera. Poi altri impegni presi durante la stagione. Insomma, era stata piena, caotica, intensa. Arrivo a dire, ma sì, la faccio a una critica ogni tanto anche su, ma disordinata l'estate del 2020. Quanto è stata invece ordinata quella del 2020? Non bisogna continuare così, con questo passo. Con la forza degli stimoli, dell'adrenalina e dei traguardi, ma con la forza anche e la lucidità della gestione, della prudenza e dell'attenzione ai particolari. È così che potremmo continuare ad avere Zlatan al meglio anche per i prossimi mesi. Ciao a tutti, ci vediamo domani per la semestrata.